Si estende ad altre regioni la quarta edizione di Energicamente, il progetto educativo promosso da Estra in collaborazione con Lega Ambiente e Giunti Progetti Educativi. Quest'anno partecipano oltre 6.000 studenti di medie e quinte elementari. Continuano, in maniera particolare a Prato, i tentativi di raggirare con false notizie i clienti Estra. Estra Energie conferma la validità dei propri contratti e invita a prestare molta attenzione alle offerte di metano ed energia elettrica. Dopo Sesto Fiorentino e San Sepolcro, arriva anche a Poggi Bonzi la sostituzione dei vecchi contatori gas con quelli elettronici dotati di telelettura. Centria sostituisce i contatori gratuitamente. Sous-titrage Société Radio-Canada